È stata una delle inchieste, Provvidenza, insieme alle operazioni Metauros e Cumbertazione, che hanno sconvolto la città di Gioia Tauro. Ieri sono arrivati i primi verdetti per un totale di 150 anni di carcere. Sono 11 le condanne e 8 le assoluzioni. È l'esito del processo di primo grado del procedimento nato dall'inchiesta Provvidenza, operazione della DDA di Reggio Calabria contro il clan Piromalli di Gioia Tauro. Una sentenza, quella emessa dal GUP distrettuale, che ha accolto parzialmente le richieste formulate dal PM antimafia Giulia Pantano, la quale aveva invocato per i 19 imputati pene complessive per 232 anni di carcere. Il giudice per l'udienza preliminare davanti al quale si è celebrato il processo con il rito abbreviato ha condannato Antonio Piromalli, reggente della Cosca e figlio del superboss Pino Piromalli, detto facciazza, a 20 anni di carcere. Stessa pena per Domenico Stanganelli. L'inchiesta Provvidenza, divisa in due tranche, è stata eseguita dai carabinieri del Rosso di Reggio Calabria all'inizio del 2017. L'operazione gira sulla figura cardine di Antonio Piromalli, 45enne, che sarà giudicato con il rito abbreviato, figlio del boss Pino, detto facciazza. Il giovane Piromalli si sarebbe trasferito a Milano proprio per volere del padre, al fine di abbassare l'attenzione degli investigatori dell'antimafia. Lì avrebbe istituito la sua nuova base operativa e i nuovi business lo avrebbero portato fino alla grande distribuzione degli Stati Uniti, dove avrebbe rifilato olio di sansa spacciandolo per extravergine d'oliva made in Italy. Ma gli affari di Antonio Piromalli non avevano confini, ortofrutto, edilizia, turismo, centro commerciale in Italia e negli Stati Uniti, in Romania e in Francia. Nuovi business sostengono dall'antimafia usati anche per ripulire soldi sporchi. Anche se nell'inchiesta emergerebbero le nuove direttrici degli affari dei Piromalli, la roccaforte della cosca rimarrebbe gioia taurone. Nella città del porto, infatti, il clan detta legge in solitudine.